Marco Caldi, sabato 21 e domenica 22 giugno, ritornano le notti al castello a Cava dei Tirreni. Si tratta di un'iniziativa che sta crescendo, ormai è la quinta edizione, quest'anno dedicata ad un grande del teatro europeo, non solo napoletano, quale è stato Edoardo di Filippo. Devo dire che questa iniziativa ha avuto il pregio di far appropriare la città del suo castello, tutti lo vediamo perché troneggia nella valle, ma non tutti hanno l'opportunità di visitarlo, invece sia i cavesi che i non cavesi in occasione di notte al castello si recano per trascorrere un paio di giornate al fresco, ma godendo della cultura e anche dell'enocastronomia. Insomma, un'occasione in più per conoscere le nostre tradizioni, la nostra terra, la nostra cultura. Un evento consolidato nel cartellone degli appuntamenti di Cava dei Tirreni che richiama nelle città metelliane un numero sempre crescente di visitatori dell'intera regione campania. Dicevamo in conferenza stampa che ultimamente Cava dei Tirreni sta diventando veramente centro vitale di grandi eventi e soprattutto di una moltitudine di eventi che fanno sì che Cava dei Tirreni sia il centro dell'attenzione del panorama non solo più provinciale, salenitano, ma anche regionale, perché no anche nazionale. Il bello è proprio questo, che si tratta sì di tanti eventi, ma anche di tanti eventi di qualità. La dimostrazione è che le edizioni crescono sempre di più, i numeri delle edizioni crescono sempre di più. Questa è la quinta edizione, dalle notti al castello, ma cresce non solo come numero di edizione, ma cresce proprio in termini di presenze e di presenze anche di qualità che vengono da oltre province e anche dalla regione. Questo è un fatto determinante, importante. Ciò che caratterizza la nostra amministrazione è stata sempre quella di appoggiare eventi che hanno come caratteristica, hanno due caratteristiche, la continuità e la qualità. La continuità perché significa che l'evento cresce ogni anno, si perfeziona e fa sì che abbia sempre qualcosina in più, tale da incuriosire sempre di più chi viene a Cava dei Tirreni. Perché quello che ci dobbiamo porre tutti quanti è proprio questo. Perché bisogna venire a Cava dei Tirreni? Beh, bisogna venire a Cava dei Tirreni perché ci sono gli eventi qua la notte al castello, le giornate medievali all'abbadia, la settimana rinascimentale. Ecco, si viene a Cava dei Tirreni perché ci sono eventi di qualità. Chiaramente io devo ringraziare soprattutto tutti coloro che si impegnano quotidianamente perché questi eventi abbiano poi successo e che hanno un grande amore per Cava dei Tirreni, che fanno questo con grandi sacrifici perché sappiamo tutti che le risorse non sono tante, però c'è tantissima volontà e tantissimo impegno perché solo con l'amore, con l'impegno, con la volontà, con la professionalità si possono avere questi risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti. In giugno si viverà la 358esima edizione dei festeggiamenti in onore del Santissimo Sacramento. Sì, invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questo evento ormai plurisecolare, la 358esima edizione dei festeggiamenti in onore del Santissimo Sacramento. Domenica il grande Corpus Domini con tutte le associazioni, tutte le autorità civili e militari, alle ore 18 in Duomo e poi invitiamo tutti a venire al castello sia la mattina alle 8 del 26 giugno che la sera alle 20 e 30 per la storica processione eucaristica. Ovviamente la benedizione dei trombonini alle 18 e 30, lo spettacolo pirotecnico alle 23 e 30. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questo evento e a diffidare dalle imitazioni, come così si sol dire, visto che su Facebook girano delle pagine non ufficiali e che possono creare anche alcuni problemi, anche di natura penale, se così vogliamo dire. Ricordo le uniche pagine sono la pagina Facebook Festa di Montecastello Official e il gruppo Ente Montecastello, sono le uniche due cose ufficiali dell'Ente. Francesco Loffrido, tesoriere dell'Ente Montecastello. Raffaele Vagliano, consigliere dell'Ente Montecastello. Allora, in questi giorni noi stiamo raccogliendo fondi per venire incontro a queste spese che sosteniamo ogni anno per allestire questa manifestazione che, diciamo, è già inutile dirlo, si tramanda da tanti anni e ci affidiamo alla buona volontà della cittadinanza che partecipi generosa, del resto come ha fatto sempre, però ancora di più perché le difficoltà attuali sono tantissime e quindi ci vediamo, diciamo, un po' in difficoltà anche noi nel sostenere questa manifestazione. Nonostante ciò ci diamo sotto seriamente e invitiamo tutti a partecipare. Grazie a tutti. Siamo la quinta che si rivolge al grande artista partenopeo Edoardo De Filippo. Sì, quest'anno siamo alla quinta edizione e ricorre il trentennale della morte di Edoardo De Filippo e quindi quale migliore occasione per ricordarlo e omaggiarlo con pezzi di testi teatrali più significativi del grande Edoardo. Sei compagnie teatrali si alterneranno, quindi con spettacoli itineranti, con pezzi teatrali importanti, significativi e verranno anticipati dai giullari del castello che, proprio come ho detto prima, anticiperanno le scene. Ci sarà una castellana che accoglierà il pubblico e infine poi sull'ultima scena ci saranno le voci eduardiane con una star d'eccezione che è il mio amico attore e regista Antonello De Rosa. Oltre poi all'aspetto artistico che è l'aspetto in primis più importante, ci sarà l'aspetto culinario, quindi ci sarà la possibilità di degustare un panino al gusto delle nostre tradizioni e ci saranno anche dei show riguardo dei cocktail, showman per quanto riguarda i cocktail.